Eccoci qua amici amici rossoneri, ben trovati in questo sabato di metà giornata, sabato pomeriggio ormai ci stiamo avvicinando sempre di più a quella che è un derby che può essere importante o può lasciare il tempo che trova può essere importante se il Milan va a vincere comunque perché può essere un input per risalire, per provare a fare qualcosa di serio risalire la china, riprendersi con le unghie e con i denti quello che ci dovrebbe aspettare può essere insignificante se alla fine perdiamo ragazzi perché diventerebbe sprofondo rosso nero signori per usare il nome femmismo è una banalità perché alla fine poi è così oggi che è un sabato così particolare parliamo un po' di gossip calcistico nel senso vi parlo di dell'operazione Zagnolo che lo stesso Pedullà ci confida essere un'operazione che in 5 minuti Maldini e Massara avevano convinto Zagnolo a vestire rosso nero in soli 5 minuti Maldini e Massara però avevano fatto le solite nozze con i fichi secchi nel senso che comunque Maldini e Massara avevano convinto Zagnolo ma non avevano fatto i conti con l'oste e con la proprietà infatti quando hanno avuto lo sì di Zagnolo Maldini ha provato a parlare con la proprietà e gli è stato risposto picche che non c'era il budget disponibile per fare un'operazione del genere nemmeno in prestito con diritto, in prestito con obbligo è triste, è deprimente da questo punto di vista vedere che comunque un dirigente, un ex calciatore forte come lo era comunque lui e comunque un dirigente in generale avere un portafoglio vuoto è deprimente avere un portafoglio vuoto non so se lui fosse al corrente di quello che sarebbe diventata questa situazione chiaro è che presentarsi con zero disponibilità è frustrante ragazzi, è frustrante per tutti è frustrante soprattutto per un dirigente che lavora per l'AC Milan fossimo stati a Inves Corp ma a Inves Corp a quest'ora Paolo poteva spendere, spandere qualcuno direbbe effettivamente se mio nonno aveva tre palle era un flipper però non è così purtroppo la situazione, scusate mi sposto un po' che c'è il solicchio che mi fastidisce purtroppo invece non è così, purtroppo ci troviamo la situazione che è la realtà dei fatti in cui si rimanda molto probabilmente tutto a giugno magari c'è già un accordo, non lo so questo per certo e probabilmente Zagnolo può aver appreso a giugno però il discorso è che poi a giugno se la Roma ti chiede 35 milioni ma credo che sia impossibile perché sarebbe a sei mesi poi di distanza dalla naturale scadenza nel senso che a dicembre poi i primi di gennaio Zagnolo potrebbe accordarsi a zero con chiunque quindi credo che una cifra ragionata per Zagnolo a giugno può essere intorno ai 15-18-20 milioni massimo un budget che dovrebbe essere a disposizione visto che dichiarato annualmente dalla proprietà il budget a disposizione del Milan è intorno ai 40-45 milioni budget annuale vuol dire per due sessioni di mercato vuol dire per il mercato estivo e poi quello di riparazione di gennaio non faccio commenti sulla cifra perché tanto lo sapete meglio di me quello che pensiamo e quello che penso anch'io e seconda notizia invece è il discorso di Giroud perché si parlava di questa offerta dell'Everton che avrebbe messo sul piatto per il giocatore una cifra intorno ai 8 milioni e mezzo di euro per due stagioni io sinceramente faccio fatica a crederci faccio fatica a credere che un giocatore quasi a fine carriera possa avere un'offerta così rinunciabile e rinunciare e non mi venite a parlare di bandiere perché non c'entra niente le bandiere sono un'altra cosa per accettare poi solo 3 milioni di euro ma non è tanto questo il punto del chiacchiericcio di oggi è che alla fine il procuratore di Giroud ci fa sapere intervistato poi da qualche giornalista quando gli chiedono quando rinnova Giroud risponde non dipende da noi non dipende da noi perché fa capire che dipende dal Milan se mette sul piatto quello che viene richiesto dal giocatore insomma c'è ottimismo da questo punto di vista c'è ottimismo da questo punto di vista e non dico speriamo che si possa andare a concludere perché io onestamente a giugno ma ve lo dico sinceramente contro il cuore sapete che non abbiamo più le sue lingue io a giugno sinceramente andrei a cercare un altro profilo più giovane e nel caso trovassi quello che mi serve potrei anche decidere di liberare Giroud però è una mia idea ragazzi è una mia idea poi qualcuno verrà a dirmi eh ma Giroud contro quello che ha fatto rispetto tutto quello che volete signori però secondo me è arrivato anche il momento a un certo punto di cominciare a svecchiare un po' quello che l'attacco perché gli attaccanti forti o se è veramente un fuoriclasse e vai avanti a fare il fenomeno fino a 34, 35, 36 anni o se sei un buon giocatore come può essere Giroud eccetera eccetera arriva a un certo punto poi che fai fatica sinceramente la mia opinione è cercherei qualcos'altro quantomeno rinnovare un anno solo ok? un anno solo un Giroud con un arrivo di un giocatore di un giovane giocatore attaccante e forte perché no? in panchina fa sempre comodo il discorso è che qua si parla di fare un 1 più 1 rinnovare altri due anni non lo so non lo so diciamo che diciamo che è un'operazione che fossi io ma non lo sono il dirigente farei fatica ad avallare soprattutto alla stessa cifra alla stessa cifra poi c'è anche il discorso di Zlatan che non viene non viene inserito nella Champions League e la motivazione e la motivazione logica della motivazione per la società è una questione tecnica perché hanno preferito convocare giocatori già pronti a livello atletico ma come? ci avete parlato fino a ieri che Zlatan non vedeva l'ora di calpestare il campo di San Siro in Champions League e poi invece preferiscono convocare giocatori già pronti c'è sempre qualcosa che non ti vengono a dire sempre qualcosa che non viene detto ma è comprensibile intanto Zlatan si allena con la squadra si sta riprendendo sicuramente farà qualche partita potrà essere utile al Milan in campo e soprattutto anche fuori e intanto e intanto cominciamo a fare la partita domenica che poi ci aspetta anche il Tottenham detto questo signori vi auguro buon proseguimento di giornata sempre e comunque forza Milan mi raccomando iscrizione al canale 10.000 obiettivo ci sentiamo più tardi domani e adieu ciao 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 ciao